Si apre una fase di consultazione rivolta alla popolazione a Gubbio prima dell'adozione del PEBA, il piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche, il cui ITER partì nel 2022. La loro amministrazione Estirati partecipò al bando della regione per essere ammessi a contributo al fine della redazione del piano, un contributo di cofinanziamento che arrivò all'inizio del 2023 pari a 4.800 euro. Affidata ad una società esterna alla redazione del PEBA, il documento è stato consegnato in questo mese di settembre e si concentra su un primo ambito di intervento che parte da via dell'Arboreto, risale lungo via Leonardo da Vinci, via Paruccini, via del Teatro Romano, giungendo al terminal autobus. La prima stesura delle PEBA parte quindi da una concezione raggera, prendendo come fulcro le mura urbiche e immaginando la prosecuzione dei percorsi verso ovest su via da Vinci, polo commerciale, artigianale ed edilizia residenziale pubblica e verso est su via Campoli Marte, via Porta Romana in direzione liceo classico e pedagogico Mazzatinti e civico cimitero comunale. Nell'ambito analizzato è garantita attualmente la presenza dei marciapiedi in circa il 90 per cento dell'estensione complessiva con condizioni della pavimentazione adeguate per oltre il 60 per cento dell'ambito anche se in presenza di alcune criticità da risolvere. In termini di pendenza dei marciapiedi sono state rilevate pendenze elevate del 6 per cento solo in un solo tratto. Anche in termini di presenza di rampe di raccordo sono presenti delle criticità puntuali mentre nella quasi totalità dell'ambito questa è garantita. In termini di larghezza del percorso sono presenti tratti circa il 50 per cento in cui la stessa risulta essere inferiore ai 90 centimetri minimi. Si dovrà partire da qui per intervenire nel dettaglio ma c'è la possibilità per cittadini ed associazioni di poter segnalare criticità. È presente online e già pubblicato anche sulle pagine social del comune di Gubbio un questionario grazie al quale in forma anonima tutti gli ugubini potranno segnalare le situazioni critiche relative alla propria esperienza.